Inizia per noi la settimana della crescita del contagio. Come avevamo programmato? Lo annuncia l'assessore alla salute della regione Ruggero Razza durante una diretta Facebook, nella quale ha annunciato i dati dell'emergenza nell'isola. Dobbiamo essere pronti ad una fase di crescita del contagio che speriamo non si verifichi, ma che non può farci trovare impreparati. Nell'isola salgono a 596 gli attuali positivi al coronavirus, 138 in più di ieri, secondo il report giornaniero della regione, aggiornato a ieri. A Palermo la crescita in un solo giorno è stata del 35%, si è passati da 52 a 81 casi, ma la città che percentualmente aumenta è Messina con il 38%. Nella provincia di Grigento complessivamente sono 42. In tutti i casi riscontrati, dice l'assessore Razza, abbiamo individuato contatti con le aree di provenienza del contagio. Ecco perché raccomandavamo una maggiore cautela nel rientro in Sicilia. Ed ecco perché ancora oggi chiediamo ai cittadini di rispettare le indicazioni del governatore Musumeci sulla quarantena obbligatoria. Il presidente Musumeci infatti questa notte sui social si è infuriato per lo sbarco a Messina di molte persone non autorizzate provenienti dalla Calabria. Non è possibile, non accetto che questo accada, ha dichiarato. Chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C'è un decreto del ministro delle infrastrutture e del ministro della salute che lo impedisce. Subito dopo dichiara di aver ricevuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo stretto. Possono passare alla luce del provvedimento del governo solo i pendolari che svolgono servizio pubblico come sanitari, forze armate e di polizia. Chiunque rientra deve informare restare a casa per 14 giorni e quella segnalazione servirà per fare un accertamento di natura clinica o con il tampone al termine dell'isolamento, cautelando soprattutto i familiari. Le regole di condotta sono stese anche ai familiari. Deve essere chiaro, dice ancora Musumeci, che chi è a casa non può ricevere visite.